Ciao a tutti cari amici e bentrovati sul mio canale. Siamo qui in compagnia del terrotoroscopo diviso per il sinistro datale di area acqua terra e fuoco per la settimana che va dal lunedì 26 luglio domenica primo agosto 2021. Nonostante sia in vacanza in ferie qui in Salento ho voluto comunque cercare di ritagliare questi 10 minuti per girare appunto il video sull'oroscopo di questa settimana. Ma vanno le ciance e incominciamo come sempre con i segni di area gemelli bilancio acquario. Bentrovati cari amici dei segni di area questo è il vostro rosco per questa settimana. Incominciamo con la prima carta e abbiamo il cavaliere di denari. Sicuramente una carta molto interessante state guardando verso il futuro vi proiettate verso il futuro sicuramente è un cavaliere quindi messaggi che possono riguardare la sfera professionale la sfera lavorativa e progettuale ma ovviamente anche economica un qualcosa che sta arrivando una persona che sta arrivando che potrebbe anche essere visto che abbiamo a che fare con i denari potrebbe essere anche un uomo una donna nei segni di terra toro vergine capricorno portatore o portatrice dell'ascendente oppure potreste essere voi che state facendo questo viaggio tra virgolette verso un qualcosa verso una meta verso un obiettivo ambito che può appunto riguardare la sfera dei denari che come ho detto poc'anzi può riferirsi al denaro le finanze ai progetti e alla professione. Sicuramente siete in cammino state portando avanti o inizierete perché no durante questa settimana un progetto importante e questo progetto vi farà anche aprire nuove strade e nuove possibilità di successo e di maturazione ok tenete duro. Vediamo comunque la seconda carta abbiamo il 4 di coppe allora ovviamente bisogna legare un po' queste carte abbiamo visto che abbiamo un cavaliere di denari quindi guardare oltre un messaggero anche delle comunicazioni delle notizie importanti però alcuni di voi sono un po stanchi sono un po un po affaticati probabilmente venite da un periodo veramente intenso da puntista sia emotivo ma anche da puntista e soprattutto da puntista professionale economico e progettuale e qui c'è la possibilità che questo cavaliere questa persona questa offerta qualunque questa sia giunge a voi ma voi siete un po distratti avete un po troppi pensieri tra la vostra testa non vedete che qualcuno vi sta porgendo la mano vi sta offrendo questa coppa che potrebbe essere un nuovo lavoro un nuovo incarico un nuovo impiego una nuova forma di denaro perché ripeto avete bisogno di tranquillità di relax durante questa settimana quindi c'è anche la possibilità per qualcuno di voi che appunto ci sia questa offerta di lavoro o un qualcosa che giunge a voi però alcuni di voi se la faranno sfuggire di mano perché non sono ancora pronti per diciamo acchiappare al volo questa offerta questa nuova possibilità veramente allettante e importante per la vostra crescita personale ma anche la vostra evoluzione ok ma andiamo avanti con la terza carta e abbiamo la luna anche in questo caso qui ci sono comunque dei pensieri dovete anche capire quello che volete realmente da voi vi sento un po abbattuti vi sento che non state agendo in maniera comunque propositiva in maniera luminosa state tenendo un po troppo per voi anche tra i vostri segreti dovete un po uscire allo scoperto dovete anche cercare di mettere in mostra mettere in luce le vostre emozioni quindi guardate nella vostra diciamo zona ombra e cercate di capire quello che potete offrire anche le altre persone dovete anche un po tra virgolette smascherarvi ok qui attenzione a eventuali inganni eventuali tradimenti che potreste trovare durante la vostra vita nel breve periodo o durante questa settimana lavorate anche sulla vostra emotività lavorate anche sulla vostra sensibilità e usate la vostra intuizione il vostro intuito che può sicuramente apportarvi quel cambiamento che cercate ok settimana quindi abbastanza ferma nel senso che ripeto qualcosa di bello può accadere ok a una buona fetta di voi però alcuni di voi non sono ancora pronti all'accogliere questa nuova offerta che ripeto potrà sicuramente giungere a voi se per caso c'è la firma di qualche contratto o qualcosa di simile è importante valutare attentamente la situazione la persona prima ad esempio di apporre una firma perché qui la luna può anche indicare ripeto tradimenti cose che vengono fatte non la luce del sole e quindi dovete un attimo cercare di aprire gli occhi ed essere meno distratti durante questa settimana car amici dei segni di aria benissimo andiamo avanti con amici dei segni di acqua cancro scorpione pesci anche per voi che amici dei segni di acqua questa è una previsione flash perché sono comunque in vacanza ma ho voluto ritagliarmi questi minuti per dedicarvi l'oroscopo di questa settimana amici dei segni di acqua vediamo la vostra prima carta abbiamo il tre di denari il tre di denari è una carta di collaborazione grazie alle altre persone voi riuscirete ad ampliare le vostre conoscenze le vostre capacità dovete seguire attentamente gli insegnamenti e consigli di altre persone consigli comunque di persone fidate ok dovete fidarvi diciamo ciecamente delle altre persone e in questo caso però dovete anche sapere scegliere le altre persone e imparare da loro un mestiere imparare un qualcosa che sicuramente potrà portare un cambiamento e una modifica importante alla vostra vita qui c'è proprio in questo tre di denari il fatto di collaborare con le altre persone e imparare un qualcosa di nuovo che vi spinge anche a crescere come persone soprattutto da puntista professionale progettuale ma anche se avete in ballo un qualcosa da puntista economico e finanziario ok qui qua c'è serve esperienza per portare avanti e far maturare un qualcosa di importante per voi soprattutto nell'ambito professionale ok quindi se accettate comunque tra virgolette abbraccio aperto il consiglio che vi può dare un'altra persona sarà un consiglio importante che farà aprire gli occhi anche su una determinata persona su una situazione andiamo avanti con la seconda carta abbiamo un bel asso di coppe l'asso di coppe è un qualcosa che giunge a voi una coppa quindi simbolo dell'acqua quindi qualcosa di emotivamente gratificante potrebbe essere un'offerta di lavoro un contratto un avanzamento di carriera anche l'incontro con una persona o più persone con la quale stabilire comunque un rapporto di amicizia di conoscenza ma anche perché no per i single c'è la possibilità di sicuramente ampliare le proprie cerche di conoscenze e anche incominciare a un nuovo rapporto d'amore se siete in famiglia sicuramente ottime opportunità per migliorare ancora di più il vostro legame qualcosa di nuovo qualcosa di rinnovato che giungere a voi se ripeto siete già in coppia o avete già lavoro qualche modificazione ci potrà essere soprattutto per voi che volete un nuovo lavoro o volete approcciarvi a qualcosa di nuovo da puntista professionale ma anche soprattutto da puntista creativo perché è comunque un periodo fertile un periodo comunque in cui potrete incominciare o portare avanti o anche a compimento dei progetti creativi importanti per la vostra evoluzione personale quindi sicuramente una proposta un qualcosa una persona che giungerà a voi durante questa settimana ok andiamo avanti con la terza carta e abbiamo un otto di denari carta veramente interessante porterete avanti un progetto o inizierete un progetto che darà i suoi buoni frutti a breve siete comunque degli abili lavoratori volete comunque ottenere quel risultato raggiungere quello obiettivo e sicuramente lo porterete avanti con successo grinta e determinazione quindi in bocca al lupo andiamo avanti con l'oroscopo dei segni di terra toro vergine capricorno ben trovati carnici dei segni di terra e questo il vostro diciamo oroscopo flash l'ho fatto flash di pochi minuti perché sono in vacanza sono in fere quindi voglio comunque dedicare tutto me stesso alle fere però volevo comunque regnire i partecipi di questo e di queste previsioni della settimana per voi carnici dei segni di terra incominciamo con la prima carta abbiamo l'otto di spade qui siete incatenati o a voi stessi ai vostri pensieri vostri eccessivi pensieri o comunque siete ingabbiati incatenati in una situazione o per colpa di una persona c'è proprio un ingabbiamento un incatenamento dal quale è molto difficile uscire ma molto dipende da voi ok perché qui le spade soprattutto indicano i pensieri indicano l'intelletto indica indicano la mente quindi fate attenzione ai pensieri che albergono la vostra mente durante questo breve periodo ok comunque vi vedo un po' ingabbiati vedo un po' intrappolati in una situazione in una dinamica in un rapporto però andiamo avanti con la seconda carta abbiamo la carta della morte la carta della morte è la fine quindi voi sicuramente volete uscire da questa situazione di prigionia e c'è la carta della morte quindi una carta di trasformazione la carta di trasformazione e rinascita perché dopo la morte c'è sempre un nuovo inizio quindi voi state percorrendo un periodo o comunque una fase della vostra vita particolarmente difficoltosa però questa sarà una sfida per voi che vi permetterà di sicuramente portare a compimento un ciclo e iniziare un nuovo attraverso una trasformazione una modifica anche radicale di voi stessi anche delle vostre abitudini di vita ok dovete comunque cercare di trarre un insegnamento da questa situazione da questa diciamo di questo ingabbiamento che appunto vi trovate durante questa settimana comunque durante il breve periodo non demordete mi raccomando perché ripeto la morte è comunque una trasformazione una rinascita ok perché dopo la morte c'è sempre un nuovo inizio andiamo avanti con la terza carta abbiamo la forza quindi siate resilienti siate forti coraggiosi dinamici determinati cercate sicuramente di arrivare al dunque ripeto usate la forza non fisica ma la vostra forza intellettuale per attuare questo cambiamento importante nella vostra vita quindi sicuramente molti di voi dovranno slegarsi da questa situazione far finire un rapporto osservare far finire un qualcosa che ormai non ha senso che voi portiate avanti sia in campo progettuale creativo professionale nei rapporti economici nei rapporti di amicizia in uno più sfere della vostra vita quindi serve che voi vi liberiate da questa situazione attuate un cambiamento una trasformazione radicale della vostra vita e sicuramente questo gioverà a voi e alla vostra vita ok siate comunque ripeto determinati siate forti e guardate puntate sempre all'infinito mi raccomando cari amici dei segni di terra ma andiamo avanti con gli amici dei segni di fuoco ariete leone sagittario eccoci qui cari amici dei segni di fuoco questo messaggio sono energie flash per la settimana in questione io mi trovo qui in salento quindi faccio questo messaggio previsto in flash ma perché molti di voi hanno mi hanno chiesto appunto di farlo nonostante io sia in vacanza incominciamo con la prima carta abbiamo un bel quattro di bastoni il quattro di bastoni una carta di stabilità una carta di sicurezza la carta della zona comfort quindi sicuramente mi parla di famiglia lo star bene in famiglia creare anche una casa quindi costruire una casa oppure andare a vivere insieme a un'altra persona creare proprio il proprio spazio di vita ok e quindi qua potrebbe essere che cosa potrebbe essere ripeto l'affitto oppure l'acquisto a vendita in casa oppure il fatto che la banca vi può concedere comunque un mutuo o un prestito e festeggerete per questo riuscirete comunque a creare una stabilità una certa stabilità nella vostra vita in una o più aree ok il quattro è proprio il fatto di creare il vostro perimetro ok il quattro è il quadrato ok sicuramente sarà una zona di sicurezza una zona stabile con cui star bene con voi stessi ma anche nei rapporti con le altre persone quindi anche qui se volete creare un nucleo stabile se volete portare avanti un progetto di vita insieme al vostro partner sicuramente è venuto il momento di andare avanti di guardare oltre di ufficializzare il rapporto anche il fatto di sposarvi di andare a convivere insieme quindi questo è importante ma andiamo avanti con i secondi messaggi che sono i 5 di bastoni qui nonostante sia comunque una settimana pressoché stabile alcuni voi dovranno probabilmente rapportarsi con altre persone e ci saranno delle divergenze di vedute magari voi esprimete la vostra opinione la quale sarà in disaccordo con le altre persone con le quali entretti in contatto durante questa settimana ma è importante dire la vostra è importante è dire comunque far capire agli altri comunque la vostra posizione e anche se per caso ci saranno dei disaccordi oppure delle lievi conflittualità o litigi con varie persone della vostra vita non preoccupatevi perché saranno comunque cose passeggere ok il vediamo l'ultima carta abbiamo il 2 di spade qui alcuni di voi dovranno sono di fronti a una scelta alcuni di voi però saranno saranno un po indecisi su quale strada prendere anche perché sono un po in balia delle loro emozioni e non riuscite a vedere a 360 gradi la situazione o la dinamica o quella persona è bene cercare di togliere dal dagli occhi questa verena che non vi fa vedere il presente appunto in maniera corretta lo state vedendo lo state vedendo un po in maniera distorta quindi è bene cercare di togliere questa benda è importante comunque collegare il vostro cervello col vostro cuore e dopo di che prendere una decisione anche importante il 2 è una un bivio una scelta da prendere però siamo di fronte alle spade in questo caso c'è proprio una indecisione da parte vostra caro amici dei segni di fuoco però ripeto abbiamo energie importanti di stabilità quindi se volete creare un qualcosa sicuramente le energie sono molto molto buone nonostante ci possono essere delle discussioni delle conflittualità anche comunque lievi con amici parenti ma che si risolveranno entro breve e poi ripeto attenzione a questa fase di indecisione della vostra vita benissimo cari amici grazie per aver visto questo oroscopo flash e vi aspetto sempre qui su natura olistica ciao a tutti e alla prossima